e niente oggi voglio recensirvi un accessorio per la vostra scrivania super figo ho acquistato questo tappetino gaming per la mia postazione pc e devo dire che è veramente bellissimo volevo portarvelo sul canale e farvelo conoscere perché sono accessori poco conosciuti ma che veramente cambiano la nostra postazione pc al momento il tappetino che io ho acquistato questo da 90 centimetri non è disponibile ma è disponibile solo quello da 80 comunque tenete d'occhio il link potrebbe tornare presto disponibile facciamo un velocissimo unboxing ci arriverà arrotolato in questo scatolo nero troveremo il tappetino e un cavo usb molto lungo basterà collegarlo a una presa usb del pc o un caricatore anche da cellulare a 5 volt e il funzionamento è veramente semplicissimo basterà cliccare il pulsante per accenderlo e per cambiare gli 11 effetti dei led guardate che spettacolo secondo me perfetto anche per un regalo di natale guardate che spettacolo se ti è piaciuto questo video lasciami un like ed iscriviti al canale noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti